Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 29 luglio è Santa Marta di Vetania. Il 29 luglio ricorre la giornata mondiale della tigre, istituita nel 2010 nel corso del vertice della tigre di San Pietroburgo in Russia, nata con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul rischio concreto di estinzione di questa specie e sulla sua salvaguardia per evitare che accada. L'obiettivo dunque promuovere un sistema globale per proteggere gli abitati naturali delle tigre e sensibilizzare l'opinione pubblica a sostenere le questioni relative alla conservazione della tigre.